Presentato il Bando Internazionale Giovani Artisti per Dante, promosso da Ravenna Festival e Comune di Ravenna, per la selezione di proposte artistiche che mirino alla valorizzazione del patrimonio culturale legato alla figura di Dante Alighieri. Gli spettacoli saranno prodotti da Ravenna Festival e inseriti nel programma ufficiale dell'edizione 2016. Dal 13 maggio al 12 luglio, gli antichi chiostri francescani ospiteranno una sorta di rassegna nella rassegna, con un appuntamento quotidiano dei giovani artisti per Dante, attraverso proposte artistiche, spettacoli e performance. Il Bando e la domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito www.ravennafestival.org, data ultima per inviare il progetto è il 28 febbraio 2016. Ravenna e Dante, un binomio inscindibile. Già nel 1995 Sermonti cominciava la lettura di tutti i canti, una cosa che è rimasta negli annali, nelle cronache e nella storia. Vogliamo passare dall'alfabetizzazione e dalla divulgazione alla creazione artistica, quindi mettiamo a disposizione dei giovani artisti delle risorse, dei luoghi straordinari, per creare nuovi spettacoli di teatro, di danza, musica, poesia, ispirate alla vita e alle opere di Dante Alighieri. Un bando internazionale? Sì, attraverso la regione abbiamo informato già le nostre ambasciate del mondo, gli istituti italiani di cultura e la società dantesca e la società Dante Alighieri ci metteranno a disposizione la loro rete internazionale perché possano essere raggiunti artisti di tutte le nazionalità.